Allora, abbiamo il glicogeno, poi abbiamo il grasso. Allora, voi se andate in un qualsiasi settore wellness, insomma, salute e così via, di una libreria, trovate decine, ma no, centinaia di libri sulle diete, le diete più... da quelle, diciamo, più sensate a quelle più incredibili, va bene, fino a quelle proprio fantascientifiche, tipo la dieta del gruppo sanguigno, cose di cose di questo genere. Molte persone, insomma, le hanno provate tutte, ci sono quelle più famose, che poi sono passate di moda, tipo l'Atkins, la Dukan era di moda qualche anno fa, adesso se ne sono di moda altre, quelle a basso indice glicemico, poi ci sono altre diete che sono sempre più strane. Molte persone le provano e trovano dei benefici iniziali. Se avete mai provato a fare... tutti noi abbiamo provato, almeno tutti noi di una certa età in avanti, anch'io, ho provato a fare delle diete, nel senso che voglio dimagrire un po'. E quello che si vede è che molto spesso qualsiasi dieta più o meno si segue, ed è meglio che sia seguita, che si segua una dieta magari data da un dietologo, oppure fatto in qualche maniera sensata. Quindi quasi tutti hanno provato, fanno una dieta, che era il classico per la Dukan di qualche anno fa, che ha portato un consumo di Bresaola alle stelle, si perde un paio di chili, anche tre chili, nel giro di due o tre giorni. Ok? E quindi uno dice, cacchio, funziona, funziona! Purtroppo le cose sono un po' più complicate, perché quei due o tre chili che uno perde nei primi due o tre giorni, anche una settimana, in realtà non sono grassi persi, è acqua e proteine. Perché vi dico questo? Allora, gli studi, ci sono tantissimi studi sul perché si ingrassa, e ci sono tantissimi studi che si fanno su come si può dimagrire con vari effetti, appunto, a seconda del tipo di cibo, a seconda del tipo di attività fisica che uno fa. Si è capito, questo per esempio è un articolo che stavo leggendo un po' di tempo fa, su una rivista che si chiama Obesity, è una rassegna sistematica, cioè è una sorta di riassunto di tutti gli articoli che sono stati mai pubblicati in un certo campo. E in questo caso il campo di interesse era cosa succede al nostro corpo quando siamo a dieta e quando vogliamo dimagrire. E quindi, torniamo al discorso che qualcuno ha fatto prima, o confrontando per esempio chi digiuna completamente a chi segue vari tipi di diete, una a bassissimo tenore di carboidrati, una con un tenore medio di carboidrati e così via. Quello che si è capito, almeno questo che stanno capendo, questo è un articolo, è una rassegna del 2010, quindi insomma abbastanza recente e riassume in tutte le sue pagine tutti gli studi di questo tipo. Si pensa di aver capito che quando si dimagrisce, seguendo una dieta o facendo digiuno, in realtà ci sono due fasi. C'è una prima fase e si vede proprio facendo un grafico, se uno si misura, si pesa tutti i giorni, anzi io vi consiglio, così anche come abitudine, di pesarvi tutti i giorni senza ossessionarvi, ma per tenere sotto controllo il peso, perché così come si dimagrisce lentamente, si ingrassa lentamente, e quindi uno se ne rende conto pian piano. Quindi io quando sono a casa mi peso sempre tutte le sere, prima di andare a dormire c'è chi preferisce pesarsi la mattina e poi mi faccio un grafico, io sono uno scienziato per cui adoro i numeri e per cui mi faccio anche i grafici. Allora questi esperimenti sono stati fatti più seriamente e in condizioni controllate e si è visto che ci sono due fasi diverse del dimagrimento. La prima fase che dura dai due giorni fino anche a una settimana è un dimagrimento abbastanza rapido che fa perdere appunto due, tre, quattro chili. Chiaramente dipende dalla persona, da quanto pesa, da quanti muscoli ha, quanti grassi ha. I muscoli consumano più energia, quindi la massa magra consuma più energia della massa grassa, quindi andare in palestra serve anche per aumentare i muscoli perché poi anche quando non facciamo esercizi consumano. Vorrei conoscere il tuo parere sul libro Life 120, buttatelo nella stufa, ok? Buttatelo nella stufa, il libro Life 120. Allora, dicevamo, la prima fase è una fase di perdita di peso, non dico dimagrimento, perdita di peso corporeo veloce e poi c'è una fase che può iniziare dopo magari una settimana, però diciamo dipende dalle varie persone e può durare con un dimagrimento più lento ma può durare molto più lungo. Allora, cosa succede nella prima fase? Quindi le due fasi vanno trattate in modo diverso. La seconda fase è soprattutto una perdita di grassi, di consumo di grassi. La prima fase, e tutti gli studi concordano, dicono che nella prima fase che può durare 2-3 giorni, che sono quei 2-3-4 giorni in una settimana che ci fa esultare quando proviamo a fare la dieta. Vediamo che diminuiamo di peso, la bilancia ci dà ragione e quindi diciamo siamo tutti contenti. Quello che succede è che perdiamo acqua. Perché? E torniamo al discorso del glicogeno che vi ho fatto prima. Lo so che è un po' complicata, ma è un casino il metabolismo e la nutrizione umana, è veramente un casino. Allora, abbiamo detto, il glicogeno, che è questa sorta di amido degli animali, ha anche una capacità di trattenere acqua. Il glicogeno, fate conto che è una specie di zucchero, zucchero immagazzinato. Così come lo zucchero riesce a trattenere tantissima acqua, la stessa cosa fa anche il glicogeno nel nostro corpo. Allora, quest'altro articolo che sono andato a recuperare, hanno fatto delle stime, sono sempre stime, non sono mai esperimenti precisi, perché io non posso prendere per fare un esperimento un uomo vivo, lo squarto, ci faccio l'analisi e vado a vedere quanto il glicogeno ha dentro. Questo è chiaramente un limite di tutti questi studi di nutrizione, dal punto di vista etico non si possono fare certi esperimenti. Quindi questi studi di stima, hanno preso dei volontari, gli hanno fatto proprio delle biopsie dei muscoli o del fegato, facendoli mangiare magari per una settimana zero carboidrati, poi gli hanno fatto mangiare i carboidrati, insomma sono arrivate delle stime che dicono che noi mediamente abbiamo nel corpo da mezzo chilo a 800 grammi un chilo di glicogeno, la maggior parte nel fegato, comunque un po' nel fegato e il resto in giro nelle cellule. Perché? Perché noi quando facciamo, se a questo punto io esco, mi metto, faccio pesi, faccio esercizio fisico, c'è un po' di zucchero nel sangue, c'è il glucosio che è il carburante delle cellule, a un certo punto magari non ce n'è più, sto correndo, non mi sono portato dietro la barretta, non mi sono portato dietro le caramelle, prima di mettere in moto il metabolismo nei grassi ce ne vuole e allora il glicogeno, che è sostanzialmente glucosio immagazzinato nei muscoli e nel fegato, viene utilizzato, viene liberato e lo consumiamo. Quindi veniamo al discorso della dieta, poi chiaramente quando torniamo, ci fermiamo, mangiamo, viene rimpiazzato. Se io adesso, come fanno moltissime diete, non mangio più zuccheri e carboidrati per 2-3 giorni, anche per 3 giorni, zero, non mangiate più carboidrati, mangiate solamente grassi e proteine, cosa succede? Succede che sto povero nostro corpo dice, oh io ho bisogno del glucosio, e quindi cerca di, in qualche maniera, di usare quello che ha e dice, cacchio, ho 800 grammi di glicogeno immagazzinato, sto qua, non mi sta dando i carboidrati che mi servono, prima di usare le proteine, vi ricordate che anche le proteine vengono utilizzate per produrre energia, però il nostro corpo preferibilmente, se può, le proteine le usa per fare delle nostre proteine. Quindi il glicogeno dice, no, ce ne abbiamo 800 grammi e allora lo consuma, quindi oggi e domani non mangiate più, non toccate neanche una brioche, zero, zero carboidrati, e quindi il vostro corpo intanto che ha il glicogeno lo usa. Usando quegli 800 grammi, 500 grammi, quello che c'è a disposizione, l'acqua che prima era legata se ne deve andare via. E sempre questi studi dimostrano che per ogni grammo di glucogeno, di glicogeno scusate, ci sono 3 o 4 grammi di acqua attaccata. Quindi il peso totale di glicogeno più acqua può arrivare a 2, 3, 4 kg. Allora se io consumo il glicogeno in questi 2-3 giorni di dieta completamente senza carboidrati, uso questi carboidrati, i grassi praticamente non sta succedendo nulla, rimangono tutti lì, però l'acqua che si è liberata la devo pisciare fuori sostanzialmente. Infatti un classico di queste diete nei primi giorni è che io vado spesso in bagno. Sono contento perché guardo la bilancia e dico cavoli, sono dimagrito di 3 kg, ma che grazie alla bresaola! Però hai perso acqua, in realtà non hai perso solo acqua, hai perso acqua, hai perso anche tutta una serie di fluidi corporei, ma va bene, cioè comunque pochissimo grasso. Quindi questo è il discorso del glicogeno, è per questo che ci sono le due fasi, perché poi una volta terminato questa fase tumultuosa, nelle condizioni adatte, il corpo comincia a dire, va bene, abbiamo anche il grasso immagazzinato, diamoci da fare, cerchiamo di consumarlo. Sempre in questi studi hanno fatto, prima mi chiedevate del digiuno, notate che io non vi sto dando il mio parere, cioè voi non dovete sapere del mio parere cosa ne penso delle diete, io vi dico cosa è pubblicato sulle riviste scientifiche, cosa che troppo spesso anche vari medici e nutrizionisti non fanno e danno il loro parere in televisione. Un scienziato quando parla in pubblico non dà il suo parere, dice cosa è la letteratura scientifica. Allora, sempre questi studi fanno il confronto, diciamo, cosa succede se prendiamo una persona e gli diamo solamente acqua da bere e la nutriamo con le vitamine che gli servono e così via, ma non gli diamo né grassi né carboidrati né niente, quindi digiuno totale, va bene, però in condizioni controllate, hanno fatto questi esperimenti tanti anni fa, adesso non so se dal punto di vista etico i comitati etici permetterebbero, però molti decenni fa ci sono stati degli esperimenti in cui hanno preso delle persone obese e li hanno sostanzialmente messi ad acqua e vitamine, quello che gli serviva, e quindi hanno misurato pian piano cosa succedeva. Hanno fatto per tantissimi giorni, questi studi sono stati ripetuti per tempi più brevi, quello che salta fuori in media è che ovviamente se io digiuno totalmente, se io digiuno totalmente, quindi non mangio niente, perdo più peso che se non faccio una dieta, se io digiuno totalmente perdo più peso ovviamente, però, però, se voi andate e vi faccio vedere il disegnetto, quello che succede è che in proporzione quando facciamo il digiuno perdiamo più proteine e più acqua rispetto al grasso di quello che succede se noi non facciamo il digiuno ma facciamo una dieta con pochi carboidrati. Va bene, adesso non vi do il numero perché tanto io non sono un dietista non vi devo dire quanti ne dovete avere. Ok, cosa ne penso della dieta di Lemme? Lemme è uno che, anche lui, a volte dice delle boiate perché il sale fa ingrassare o cose di questo genere, no. Ecco, sostanzialmente Lemme, a parte il suo modo di fare per cui ti insulta e gioca molto sulla parte psicologica, poi alla fine della fiera la dieta di Lemme, lo so perché appunto conosco persone che l'hanno fatta e l'ho vista, di fatto è una dieta ipocalorica, perché se ti dice che tu puoi mangiare, oggi puoi mangiare solamente cipolle cotte e solo quello, ma quante cipolle volete mangiare? Oppure pasta senza sale scotta? Quanta ne vuoi? Ti dice. Sì, grazie al cavo, quante ne vuoi mangiare. Però diciamo, per molte persone ha funzionato in qualche maniera, ma secondo me se funziona è più per una questione psicologica, ma ne parleremo un'altra volta. Però diciamo, quello che dice non è quello che succede con la sua dieta, perché dice delle cose che non stanno in piedi dal punto di vista scientifico. Probabilmente lo sa anche lui, ma altrimenti non lo chiameremmo nel talk show a dire queste cose. Cioè però appunto molte persone sono contente, sono effettivamente dimagrite, ma se sono dimagrite è perché seguono una dieta ipocalorica di fatto. Ok, mi sono perso. Ah no, stavo parlando appunto del digiuno totale, e non sto parlando del digiuno intermittente o di tante altre cose come quelle di Longo o altre cose, sto parlando del digiuno totale, che può avere senso per altre cose, per alcuni giorni, per alcune cose, per altre patologie, ma sto parlando del dimagrimento qui. Il digiuno totale è, almeno secondo questi articoli, controproducente, perché ti fa perdere più proteine, quindi più massa muscolare, più massa magra, che è quella che consuma più energia di quella che noi vorremmo. Quindi questo è il motivo per cui proliferano tante diete e spesso sembra che funzionino, ma purtroppo quello che succede nei primi due, tre, quattro, una settimana è una perdita di... Quindi questa è la questione. Consumati il glicogeno, o consumati... adesso torniamo in una situazione normale, in cui stiamo facendo una dieta in cui consumiamo più calorie di quelli che mangiamo durante il giorno, quindi ad un certo punto anche i grassi che abbiamo li consumiamo. L'unico modo di espellere i grassi, e qui ritorno al discorso della cacca che vi dicevo prima, non è attraverso la cacca, va bene, i grassi li respiriamo, cioè il metabolismo dei grassi è l'unico modo in cui può portare ad anidride carbonica. Non ci sono altri modi in cui io posso eliminare i grassi. Questa è una questione proprio metabolica di reazioni che possono avvenire normalmente nel nostro corpo. Quindi l'unico modo per buttare fuori i grassi, per consumarli, è attraverso la respirazione. Perché? Perché appunto quando ci muoviamo produciamo, abbiamo bisogno di energia, il nostro corpo se ne accorge comincia a consumare sia i carboidrati sia i grassi, le proteine sono una questione un po' a parte, dipende anche da quali proteine, dal valore biologico, è una cosa un po' complicata. I grassi producono acqua e anidride carbonica, e quindi l'anidride carbonica va fuori da qui. Mentre l'acqua ha vari modi in cui noi possiamo espellerla, ovviamente, possiamo andare a fare la pipì, il sudore, le lacrime e tante altre cose che magari anche non si possono citare qui su Instagram, che è adatto a tutti e non siamo in fascia protetta, ma l'anidride carbonica esce da qui, e quindi i grassi si devono respirare fuori. Ecco perché banalmente quando facciamo esercizio fisico e andiamo in palestra abbiamo il fiatone, aumentiamo la respirazione e contemporaneamente, guarda un po', aumentiamo la temperatura corporea perché è il calore prodotto dai grassi che in parte va nei muscoli e in parte va in alzamento del calore corporeo e l'anidride carbonica esce e non c'è altro modo di farlo uscire. Ah, altra domanda, altra domanda, dice ma ci sono, domanda classica che me l'hanno fatta in tantissimi, ma ci sono delle sostanze o dei cibi che alzano il metabolismo? Quindi con l'aumento della massa magra c'è un incremento metabolico? Sì, esatto, perché i nostri muscoli hanno bisogno di più energia, di funzionare che non la massa grassa. Allora, ci sono delle sostanze che alzano il metabolismo? La risposta è sì, sì, il metabolismo è quello che noi consumiamo di energia. Ok? Come vi dicevo, la media per un maschio adulto sono 2000 calorie, ma in realtà si è visto che non è quel, perché facendo delle misure, questa è una stima, facendo delle misure proprio, chiudendo delle persone in calorimetri, oppure usando delle tecniche, usando dell'acqua marcata, va bene non sto lì a spiegarvelo, si riesce a misurare esattamente quanto uno consuma, però è una cosa abbastanza complicata, però io posso alzare il mio metabolismo. Supponiamo che io consumi mediamente 2000 chilo calorie, se io lo alzo un pochettino magari vuol dire che ne ho bisogno di, o ne consumo diciamo 2050, ok? 2100. Quindi ci sono delle sostanze che sono note, quando andate a leggere i vari influencer dicono, ah la menta, no, siccome gli ho detto che il grassi, l'ananas non brucia i grassi, la menta, la menta alza il metabolismo. Allora, per esempio il tè verde, il tè verde alza il metabolismo, ma il punto è quanto? Lo alzano sempre poco, come dicevo la volta nel video, altrimenti moriremmo per i vari motivi che vi dicevo, non posso innalzarlo troppo. Quindi il tè verde va bene, ma banalmente l'acqua, consumare, bere più acqua, entro certi limiti, aumenta un po' il metabolismo, ne consumate un po' più di energia, questi sono studi che sono stati fatti, quindi il tè alla menta alza il metabolismo un po', sì, il tè senza menta, quindi solo l'acqua alza il metabolismo, sì esattamente, il movimento alza il metabolismo, e così via. Quindi ci sono delle sostanze che alzano un po' il metabolismo, ma non sono sufficienti per dimagrire. portatemi degli articoli scientifici, o voi che vendete il tè detox, portatemi degli articoli scientifici che dimostrano che prendendo quelle robe lì uno dimagrisce senza fare niente e vi darò ragione. In realtà cosa significa di preciso alzare il metabolismo? L'ho detto, vuol dire che noi anche se non ci muoviamo, anche se noi non facciamo niente, durante il sonno noi dormiamo, quindi non ci muoviamo, però il nostro corpo rimane sempre a 36-37 gradi, funziona, respiriamo, quindi abbiamo bisogno dell'energia. Quindi l'energia totale che noi abbiamo bisogno durante una giornata rappresenta il risultato del metabolismo, e la maggior parte ci serve per mantenerci in vita, fate questo esperimento. Allora, stasera vi spogliate, andate sulla bilancia, e vi misurate, l'importante è che abbiate una bilancia che riesca a misurare almeno gli etti. Pesatevi stasera, con una bilancia che misura l'etto. Poi domani mattina, supponendo che non siate andate a fare la pipì durante la notte, se no l'esperimento non vale, ma domani mattina la prima cosa che fate è che vi svegliate e andate a pesarvi, vedrete che avrete perso peso. Avrete perso peso, ma alcune persone si stupiscono di questa cosa. Avrete perso peso. Per esempio nel mio caso io perdo normalmente tre etti. Perché? Perché è il nostro metabolismo, non mangiate di notte, ma avete bisogno di energia, perché respirate, tutte le varie reazioni chimiche devono avvenire, e quindi il vostro corpo durante la notte consuma carboidrati, grassi, quello che ha, e butta fuori acqua e indire carbonica, e quindi alla fine perdete tre etti. Quindi aumentare un po' il metabolismo vuol dire che magari io consumo in una giornata 2000 chilo calorie, se però mettessi più massa magra, muscoli, riuscirei a consumarne un po' di più, un pochino di più, e quindi ho aumentato il mio metabolismo. Ma attenzione però, che con la palestra da sola, col movimento da solo, non si dimagrisce. Questa è una cosa anche stranota. Andare in palestra a fare il movimento serve tantissimo per tutta una serie di altre cose, ma non è sufficiente per dimagrire. Per dimagrire alla fine serve, oltre a questo, l'aumento del metabolismo costante, anche un bilanciamento energetico. Ultima cosa, ultima cosa. C'è stata qualche reazione che mi ha fatto un po' ridere, pochissimi, ma qualche medico, non so capito se è medico, nutrizionista, insomma si è un po' alterato dal video e si è messo a dire delle cose, e spesso, mi capita molto spesso, che questi tipi di figure, quindi i medici, quei rari che mi dicono delle scemenze, mi tirano in ballo delle supercazzole tremende sugli enzimi, che si capisce che non ne sanno neanche loro. Allora, un enzima è una sostanza che aiuta una reazione chimica nel nostro corpo, ma non altera minimamente il bilancio energetico, ok? Assolutamente. Gli enzimi sono catalizzatori, non alterano minimamente il bilancio energetico, quindi tutti i discorsi di termodinamico continuano a valere, uno mi può tirare in ballo tutti i metabolismi, tutti gli enzimi col salcazzolo che volete, ma non cambia niente, però purtroppo mi sono reso conto che spesso alcuni, dalle facoltà di medicina spesso escono persone che non hanno delle grandi fondamenta di fisica e di chimica, e così ci ritroviamo appunto in televisione i vari mozzi, i vari lemme, i Campbell e così via. Ed è purtroppo, purtroppo il fatto di essere medici dona immediatamente una credibilità enorme, anche se spesso, in questi casi mediatici, non è assolutamente giustificata. Io ho scritto un articolo, non posso mettervi il link qui, ma andate sul mio blog, o cercate su Google un articolo che ho scritto qualche anno fa che si chiama Il potere mediatico del camice bianco. Il potere mediatico del camice bianco. E ho raccontato la mia esperienza con vari medici, le pecore nere sono la piccolissima percentuale, sono assolutamente d'accordo, però spiega benissimo perché noi ci fidiamo di queste persone, perché noi durante la nostra vita affidiamo spesso la nostra vita dei medici, quindi dobbiamo fidarci dei medici, e quindi automaticamente anche se un medico esce dal suo seminato e dice delle cazzate di chimica, di fisica, di termodinamica, se uno non ha l'allerta, le antenne ben dritte, ci crede, perché siamo portati a fidarci del... cinetica non è termodinamica, eh lo so, eh lo so, ma sbaglio a spiegare te, purtroppo anche ad alcuni nutrizionisti, pochissimi eh, però appunto tanti altri invece mi scrivono e dicono grazie, grazie che c'è ste robe. Allora, un medico mi ha detto che se le incula la chimica del primo... e faccio... vabbè, lo so, lo so, lo so. Va bene, niente, io credo che il tempo stia per finire. Bevo un po' d'acqua, ho tolto anche la marca, così non vedete quale acqua è, non vi posso dare dei codici sconto. e niente, io vi ringrazio, vi saluto e vi ringrazio. Qualcuno mi dice delle tisane di puranti tipo una che ho qua, un'altra volta, un'altra volta, se vi è fatto piacere fatemelo sapere e magari vedremo di rifare. Io vi ringrazio, ciao a tutti!